Ad Agrigento, presso la biblioteca Lucchesiana, in via Duomo, Settimio Biondi, ha presentato il libro di Matteo Collura, Sicilia, la fabbrica del mito, edito da Longanesi. Sono intervenuti Matteo Collura, il sindaco Marco Zambuto e il direttore della biblioteca Lucchesiana, Don Angelo Chillura. Letture di Giussi Carreca, le interviste di Davide Saglia. Matteo Collura, la Sicilia, la fabbrica del mito, è giunto ormai alla seconda edizione. Possiamo dire che tanti di questi personaggi, se non tutti, vengono spogliati quasi della loro sicilianità, della loro meridionalità e visti quasi in una chiave asettica, nel senso quasi distaccati alla loro mitologia sicula. Ha detto bene, vengono spogliati, a me la parola sicilianità non piace, comunque vengono spogliati del loro alibi, quindi appaiono per quello che sono. Noi per coprire tutto ciò che è di deleterio riguardo alla Sicilia, gli abusi, le sopraffazioni, le sciatterie, i pressappochismi eccetera eccetera, li copriamo o dicendo che questa è la terra di Pirandello oppure ricorrendo al mito, insomma, quindi il mito come alibi. In Sicilia si usa a manovrare quella che Pirandello ha splendidamente definito la corda pazza, quindi sono dei personaggi a loro modo geniali che usano appunto la corda pazza per ingannare la realtà, insomma, per beffarla. Risultano personaggi sotto certi aspetti eccezionali, sotto altri sconcertanti. Questo libro cerca di raccontarne le vicende muovendo il filo conduttore che è quello del mito, il mito come nostra giustificazione storica, ma anche come alibi, il mito come scusa, anche quello come uno strumento inventato di sana pianta per coprire la realtà, per beffarla. Ecco, la discriminante delle letture che il viatico deve accompagnare ogni lettore è quello di sapere distinguere che cosa è il mito da che cosa non è il mito, o meglio, che cosa è il mito in senso tecnico e culturale, da che cosa invece è un mito creato dalla ragione o dalle ragioni, la ragione di Stato, la ragione politica, la ragione degli interessi eccetera eccetera. Quindi disinguinare il campo da questa confusione che culturalmente, a livello anche medio-alto, si è fatto tra il mito propriamente detto, cioè una manifestazione conoscitiva del pensiero immaginativo e che cosa invece è il mito politico, il falso mito, che è un connubio tra un'esigenza di invincimento, di nascondimento della ragione e un'esigenza di razionalizzare i falsi miti per poi pervenire ad esiti che sono esiti abnormi, sconcertanti, terribili, per esempio il mito della mafia. La mafia è mitica se non si riesce a leggerla irrazionalmente e politicamente, quindi se non si riesce a sconfiggerla. Quindi noi diciamo miti di quelle cose che non vogliamo sconfiggere.